Questo è l'ultimo. Appoggialo lì. Non mi ricordo di quello scatolone. Dove l'hai preso? Era in mezzo agli altri. Da dove vuoi che l'abbia preso? Non mi ricordo di averlo mai riempito né di averci scritto sopra il mio nome. A me non me ne importa. Io l'ho portato di qua e resta di qua. L'avrà fatto mamma, dai. Ah, se avessi io questa stanza, cosa ci farei? E invece no, mi è toccata quella più piccola. Dai, tra un anno se tutto va bene te ne vai. Non ti lamentare, eh. Sono pur sempre la sorella maggiore. Devo far valere i miei diritti. Ah, ha chiamato mamma. Ha detto che probabilmente fanno un po' tardi. Non so, hanno avuto dei problemi con il trasloco. Vabbè, tanto e non ho decisamente da fare qui. Vabbè, io ne approfitto per farmi una tazza di tè, quindi ti pregherei di non disturbarmi. Chiara ti ricordi di una vecchia macchina fotografica? Chiara? 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 Ok 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 Non ci posso credere Chiara Chiara in salotto ora Cosa del ti prego di non disturbarmi non ti è Chiara Zitta e vieni in salotto ora Che c'è Non puoi immaginare cosa ho trovato Sarebbe Bella wow dove l'hai trovata Nell'ultimo scatolone che mi hai portato ma io non ho idea cosa ci facesse lì Forse per il trasloco Non ho mai avuto una macchina fotografica del genere provala Ma stai bene Si tu provala e vedrai ma mi raccomando puntala solo ed esclusivamente verso gli oggetti Ma che stai dicendo Ok Provala Scusa un secondo Pronto Marco No non posso Ti richiamo dopo Come? Come dici? Bye cheese No pierdo minut Passi Lascer Platt Musica ein